Il mondo degli streamer è in continua espansione. Sono sempre di più coloro che cercano di lanciarsi in questo campo proponendo dei contenuti in una live piuttosto che in un video. Gamers, intrattenitori, rapper, personaggi di tutti i generi ormai si stanno dando allo streaming, che inizia a intrattenere ogni giorno di più il pubblico da casa. Talvolta capita che content creator che non hanno a che fare con il mondo musicale rilascino dei pezzi, spesso e volentieri per pura goliardia. In questo video vedremo le canzoni degli streamer. Il primo che andremo a vedere è Simone Panetti. Intorno al 2018 inizia ad apparire nelle live di Omiatol, mentre l'anno seguente inizia a portare contenuti propri sul suo canale, spinto principalmente dalla fanbase e dallo stesso Omiatol. Tra i suoi contenuti più noti vi sono le live in cui scommette alle slot machine o al casino online, oppure dove videogioca con altri streamer. Ma ciò che più di tutto l'ha collegato alla musica è il twitch tape, mixtape i cui pezzi vengono creati in live utilizzando dei beat inviati dai fan. Si rifà quindi molto alle sonorità del mondo trap, spesso collaborando con Mike Lennon o Nasca. Vengo da to' bella monaca e no' ho mai visto alti passi, più bello dei miei tossici, bello come i tossici, scippi sotto i portici, sapendo che i prossimi possiamo esser noi, io, io. Rune nel quartiere, se senti sirene, urli che piove anche se fuori c'è il sole, le urla dal balcone, sembrano una canzone, proprio la mia canzone che fa tipo wow oh oh oh. Come sempre io non so che fai, non so dove sono né con chi sai, se scopro che stai parlando con lui, sappiamo entrambi che per te sono guai, non rispondo se non ho il wifi, sono stronzo sì ma già lo sai, e metto il condom che non si sa mai. Anche Omietol, nominato precedentemente, ha pubblicato alcune canzoni. Ha iniziato come youtuber intorno al 2010, per poi spostarsi anche su altre piattaforme, dove ad oggi è uno tra i content creator più seguiti in assoluto. Anche i suoi contenuti riguardano il gioco d'azzardo, ma per lo più intrattiene chiacchierate con ospiti vari e fan. Inoltre, come già anticipato, ha pubblicato alcuni pezzi. Il più famoso è sicuramente Greta Menchi, con Genso, dedicata alla nota influencer, ma anche il pezzo Non me la dà ha raggiunto ottimi risultati su YouTube. 10.000 fan al giorno sotto a chi tocca, piadina, kebab, salsa yogurt in bocca. Scoop, 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 salsa yogurt in bocca, tutte queste di me, salsa yogurt in bocca. Per te, salsa yogurt, per te, salsa yogurt in bocca. E poi, scoop! Zano è tra i content creator più noti del momento e macina numeri su numeri. Oltre a delle live in cui tratta videogames, principalmente FIFA, attualmente è divenuto molto noto anche per le sue reaction ai pezzi del mondo hip-hop, che sono diventate uno dei suoi format più visti in assoluto. Col tempo è arrivato anche a scrivere dei pezzi suoi e a collaborare con dei veri e propri rapper del panorama musicale italiano, quali Mad Men e Da Supreme. Scusi è fatto nel lock, wow, oh, 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 oh. Un colo cacca, wow, oh, 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 oh. Ragionette, shot, ah, dal barito, oh, oh. Scusi è fatto nel lock, wow, oh, 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 oh. Warzonata e si gode, killo la tua squadra e no, non lascio prove. Fra te sto 1v9, locato in casa tipo prison break, back in paio di das, vado Zano next. No, non fa per me. Zano è supremo come Totti e Del Piero, sempre insieme da zero. Nello Taver è uno tra i personaggi di spicco del momento, i suoi contenuti sono piuttosto eccentrici, ma ciò che più di tutto l'ha portato alla popolarità sono stati i suoi freestyle come Happy Hippo o Massimo Truisi 1 e 2. Lo fa per goleardia, questo è ovvio, e a differenza di Zano non punta a creare pezzi seri. Vado a Milano, incontro una bimba con le Lely Kelly, mi dice ciao ti prego, leggi il mio libro, è tipo Geronimo Stilton, piacere mi chiamo Giulia Dell'Hellis. Gattarandello, 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 Gattarandello. Gattarandello, 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 Gattarandello. Non è che siete emancipate perché ho un bouquet preferito E un bouquet che vedete un buffet vi tuffate Ops, ossa grosse, cough, cough, tosse Non do il cocco a ste type denuncia per cossa Per quanto la striscia mi gasa Mi sembra la striscia di Gaza Ho una serpa e mi striscia in casa Brumotti dai striscia a casa Come le zebro le strisce a caso Non metto casi o no od ma pighe Perché i soldi li spendo coi friends Ma non al club ma sprizza neor Non metto i pezzi su spotty finché non arriva la major Magari un bel lavoro, magari a nero Ai 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 ti sei tolta lo Yamamai Ed io rip Duro poco subito punto hit Nello taver come stai bene Basta che te ne vai Tanto cazzo te ne faccio fatica A distinguere il mio c***o dal mio intestino tenue Non sono come voi Cresciuto con playboy voi col gameboy Infine non si può non citare il maestro Così è chiamato dai suoi spettatori G Schianto Intrattiene il suo pubblico con diversi contenuti Tra cui freestyle che hanno fatto di recente il giro del web Ovviamente non va preso sul serio Anzi G Schianto non cerca in alcun modo di esserlo E quando rappa su delle basi lo fa solo per divertimento Che si trasforma per i fan in intrattenimento Senti come urla la mia vicina Streamo tutti i giorni Spacco più di prima Se mi cerchi mi trovi nella copertina Attacco bene sopra tutti i beat Sono un grande perché mangio tutta Twitch Cercami su Google Astizia la lezione So di schianto il re delle maratone Se non mi segui ora ti svegli Io piaccio tutti ai brutti pure belli Sei lo stesso che fa sul mio peso forma Sei lo stesso che guarda sul mio mio piattaforma Ti stendo quando voglio Ora voglio ogni giorno Su Ventu Blackjack All day night Quando esco gridano tutti i crazy time Ne vedi nel pracchetto Spaccio dopamina Alla tua iwatsuba da me Mentre tu stai in cucina Quando vieni a casa parte la festa Dopo torna tardi i clipi pure questa Tutti pronti a criticare quel che faccio Io ti uso per pulire come uno straccio Sono il vero foto con i clickbait E ti guardo sul mio no Stream day Vieni contro di me Ti sconfitto per n L'unica cosa che dico È la parola con n Ovunque vedo il mio nome Passo per tu I miei sub Sono più delle tue views Che ne pensate di questi streamer E dei loro pezzi? Lasciate un commento qua sotto Esprimendo il vostro pensiero E condividete il video con i vostri amici Inoltre se il video vi è piaciuto Lasciate un like E attivate la campanella Per ricevere le notifiche di tutti i video Per ricevere le notifiche di tutti i video